Un nuovo mezzo a disposizione della Asla Lanciano Vasto Chieti, nuove possibilità di intervento sempre più veloci sul territorio? Sì, mentre abbiamo inaugurato già un'ambulanza per il soccorso denario, questa è un'ambulanza che serve per il trasporto neonatale, che appunto in questa regione Abruzzo viene fatto da Pescara e Chieti a turno e siccome il mezzo che avevamo, ha fatto l'incidente con un ceavo tornando dall'Aquila, era urgente sostituirlo, per cui prende servizio oggi che appunto è stato collaudato e messo su strada e chiaramente questo per la sicurezza della rete di emergenza sulla neonatologia. Quali sono le caratteristiche di questo mezzo? Allora intanto è un'ambulanza di tipo A, che servirà un'ambulanza di tipo A con medico e quindi medicalizzabile tranquillamente con tutti i nuovi presidi. dell'emergenza. In più abbiamo questa, ha in più questa caratteristica di avere la possibilità di diventare neonatale, cioè quindi per il carico della barella specifica per la neonatologia e anche quindi oltre ad avere l'ossigeno, anche l'aria perché c'è questa doppia funzione.